Hai oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Puoi venderli e trovare vere e proprie occasioni. Per cambiare salotto, guardaroba, cellulare o tv con i leader dell'usato. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti, ricavando dal 50 al 75%. Riceverai i tuoi soldi subito e in contanti durante gli eventi, oppure dal primo giorno del mese successivo alla vendita. Tutti gli oggetti sono selezionati ed esposti anche sul sito. Con un clic o una telefonata puoi prenotare una valutazione gratuita a domicilio e richiedere il servizio di trasporto. Mercatino è il modo intelligente di guadagnare, acquistare e sostenere l'ambiente. Riutilizza. Vieni nel posto giusto.